Jason. Jason aveva cavalcato il vento tante volte. Essere il vento, però, non era la stessa cosa. Si sentiva fuori controllo, senza confini fra il proprio corpo e il resto del mondo, con i pensieri dispersi. Chissà se i mostri provavano la stessa sensazione quando venivano sconfitti. Disintegrati, inermi, informi. Jason percepiva la presenza di Nico da qualche parte nelle vicinanze. Il vento di Ponente li trasportò nel cielo di Spalato. Insieme sfrecciarono sopra le colline, sorvolando l'acquedotto romano, le autostrade, i vigneti. Man mano che si avvicinavano alle montagne, Jason scorse le rovine di una città romana distesa in una valle. Resti di mura, fondamenta quadrate, strade percorse da profonde crepe. Il tutto ricoperto di erba, come una gigantesca scacchiera invasa dal muschio. Favogno li posò fra le rovine, accanto una colonna spezzata, grande come una sequoia. Il corpo di Jason si riformò. Per un attimo si sentì perfino peggio di quando era il vento, come se qualcuno all'improvviso lo avesse avvolto in un cappotto di piombo. Sì, i corpi mortali sono tremendamente pesanti, commentò Favogno, come se gli leggesse nel pensiero. Il dio del vento si posò con il suo cesto di frutta sopra un muro e spalancò le ali al sole. Sinceramente non capisco come facciate a sopportarlo giorno dopo giorno. Jason si guardò intorno. La città doveva essere enorme un tempo. Riuscì a distinguere lo scheletro dei templi e delle terme, un anfiteatro per metà sepolto e piedi stalli vuoti senza più statue. File di colonne si estendevano verso il nulla. Le mura dell'antica città zigzagavano dentro e fuori la collina, come una trama di pietre su un tessuto verde. In alcune zone sembravano esserci tracce di scavi, ma gran parte della città era abbandonata, come se avesse trascorso gli ultimi duemila anni in valia degli elementi. «Benvenuti a Salona!» esclamò Favonio. «Capitale della Dalmazia, luogo natio di Dio Cleziano! Ma prima, ben prima, patria di Cupido!» Il nome del dio riecheggiò nell'aria, come se delle voci lo sussurrassero fra le rovine. C'era qualcosa in quel luogo di ancora più raccapricciante che nel sottosuolo del palazzo di Spalato. Jason non aveva mai pensato molto a Cupido. Di certo non aveva mai pensato che fosse spaventoso. Anche per i semidei romani. Il nome evocava l'immagine di uno sciocco bimbetto alato che il giorno di San Valentino se ne andava in giro svolazzando in pannolone, armato di arco e frecce giocattolo. «Ah, lui non è così!» lo riprese Favonio. Jason sussultò. «Mi hai letto nel pensiero?» «Non ne ho bisogno!» Favonio lanciò in aria all'anello di bronzo. «Tutti hanno un'idea sbagliata di Cupido, finché non lo conoscono!» Nico si appoggiò a una colonna, con le gambe che tremavano visibilmente. «Ehi, amico!» Jason gli si avvicinò, ma l'altro lo allontanò con un gesto della mano. Ai piedi di Nico l'erba diventò marrone e appassì. La macchia si allargò, come se dalla suola delle sue scarpe stillasse veleno. «Ah!» Favonio annui con fare comprensivo. «Sei nervoso, Nico di Angelo! Non ti biasimo!» «Sai come io sono finito a servire Cupido?» «Io non servo nessuno!» replicò Nico fra i denti! «Menchemeno Cupido!» Favonio proseguì come se non lo avesse sentito. «Mi sono innamorato di un mortale che si chiamava Giacinto!» «Era davvero eccezionale!» «Giacinto?» Jason era ancora stordito dal viaggio, per cui ci mise un po' ad afferrare il concetto. «Oh, sì, Jason Grace!» Favonio inarcò un sopracciglio. «Mi sono innamorato di un ragazzo!» «La cosa ti sciocca?» Sinceramente, Jason non lo sapeva. Tentava di non pensare ai dettagli della vita sentimentale degli dèi, chiunque fosse l'oggetto del loro amore. In fondo, suo padre Giove non era esattamente un modello di virtù. In confronto a certi scandali amorosi divini di cui aveva sentito parlare, non era così scioccante che il vento di Ponente si fosse innamorato di un ragazzo mortale. «Direi di no! Per cui Cupido ti ha colpito con una freccia e tu ti sei innamorato!» Favonio sbuffò. «La fai semplice tu!» «Aimè, l'amore non è mai semplice!» «Sai, anche ad Apollo piaceva Giacinto! Sosteneva che fossero solo amici!» «Non so se era vero!» «Ma un giorno li vidi insieme, che giocavano al lancio degli anelli!» «Il lancio degli anelli?» domandò Jason, perplesso. «Un gioco con quegli anelli lì!» spiegò Nico con un fil di voce. «Come con i ferri di cavallo!» «Più o meno!» confermò Favonio. «In ogni caso, ero geloso!» «Invece di affrontarli e scoprire la verità!» «Spostai il vento!» «E spedì un pesante anello di ferro dritto in testa a Giacinto e...» «Beh!» «Il dio del vento sospirò!» «Quando Giacinto morì, Apollo lo trasformò in un fiore, il Giacinto appunto!» «Sono sicuro che la vendetta di Apollo sarebbe stata tremenda, ma Cupido mi offrì la sua protezione!» «Avevo compiuto un gesto orribile, ma ero impazzito per amore, per questo mi risparmiò!» «A patto che lavorassi per lui!» «Per sempre!» «Cupido!» Il nome riecheggiò di nuovo fra le rovine. «Questo è il mio suggerimento!» Favonio si alzò. «Rifletti bene su come procedere, Nico di Angelo! Non puoi mentire a Cupido!» «Se ci guidare dalla rabbia!» «Beh! Il tuo destino sarà perfino più triste del mio!» Jason si sentiva come se il cervello si fosse di nuovo trasformato in vento. Non capiva di cosa Favonio stesse parlando, né il motivo per cui Nico fosse tanto scosso. Ma non ebbe il tempo per pensarci. Il dio del vento scomparve in un vortice rosso e oro. All'improvviso l'aria estiva si fece opprimente. La terra tremò e Jason e Nico sguainarono le spade. «Dunque!» La voce sfrecciò accanto al suo orecchio come una pallottola, ma quando Jason si girò non vide nessuno. «Siete venuti a chiedere lo scettro!» Nico era alle sue spalle e per una volta Jason fu felice di essere in sua compagnia. «Cupido!» gridò il figlio di Giove. «Dove sei?» La voce rise. Non sembrava affatto la voce di un grazioso angioletto. Era profonda e intensa, ma anche minacciosa, come una scossa che precede un catastrofico terremoto. «Dove meno te lo aspetti!» rispose Cupido. «Come l'amore fa sempre!» Qualcosa andò a sbattere contro Jason, scaraventandolo dall'altra parte della strada. Il semidio ruzzolò lungo una serie di scalini e atterrò scomposto sul pavimento di un sotterraneo romano riemerso con gli scavi. «Credevo fossi più saggio, Jason Grace!» La voce di Cupido gli mulinava intorno. «Hai trovato l'amore vero alla fine? O nutri ancora dei dubbi?» Nico si precipitò giù per le scale. «Tutto a posto!» Jason afferrò la mano che Nico gli porgeva e si rialzò. «Sì, mi sono solo beccato un colpo a tradimento!» «Oh, ti aspettavi che seguissi le regole del gioco?» Cupido rise. «Sono il dio dell'amore! Non seguo mai le regole!» Stavolta i sensi di Jason erano in stato di massima allerta. Percepì l'aria che si respava nell'istante stesso in cui si materializzò una freccia, diretta al petto di Nico. La intercettò con la spada, deviandone il corso. La freccia si schiantò contro il muro più vicino, provocando una pioggia di schegge di pietra. I ragazzi corsero su per le scale. Jason tirò Nico da una parte, mentre un'altra raffica di vento rovesciava una colonna che altrimenti lo avrebbe spiaccicato. «Ma chi è questo tizio? Amore o morte?» ringhiò Jason. «Piedilo ai tuoi amici!» rispose Cupido. «Frank, Hazel e Percy hanno incontrato la mia controparte, Thanatos! Non siamo molto diversi! Se non fosse che a volte la morte è più gentile!» «Vogliamo solo lo scettro!» ridò Nico. «Stiamo tentando di fermare Gea! Stai dalla parte degli dèi oppure no?» Una seconda freccia si conficcò nel terreno fra i piedi di Nico e scintillò incandescente. Il figlio di Ade arretrò incerto, mentre la freccia scoppiava formando un geyser di luce. «L'amore sta dalla parte di tutti e di nessuno!» replicò Cupido. «Non chiedere all'amore cosa può fare per te!» «Fantastico!» commentò Jason. «Adesso si mette a declamare frasi da bigliettino di auguri!» Percepì un movimento alle spalle e si girò, vibrando un colpo con la spada. La lama colpì qualcosa di solido. Jason udì un gemito e si voltò di nuovo, ma il dio invisibile era scomparso. Sul lastrico luccicava una scia di cuore dorato, il sangue degli dèi. «Molto bene, figlio di Giove!» disse Cupido. «Almeno tu percepisci la mia presenza! Perfino un colpo di striscio al vero amore è più di quanto molti dèi riescano a fare!» «Quindi adesso avrò lo scettro?» domandò Jason. Cupido rise. «Purtroppo non potresti reggerlo! Solo un figlio degli inferi può evocare le legioni dei morti! E solo un ufficiale di Roma può guidarle!» Ma... Jason vacillò. Lui era un ufficiale. Era pretore. Poi gli tornarono in mente tutti i ripensamenti degli ultimi tempi. La Nuova Roma aveva proposto di cedere il proprio mandato a Percy Jackson. Questo lo rendeva indegno di guidare una legione di spiriti romani. Decise di affrontare il problema quando sarebbe arrivato il momento. «Lascia fare a noi!» disse. «Niko è in grado di evocare...» La terza freccia saettò come un fulmine accanto alla spalla di Jason, che non riuscì a fermarla in tempo. Nico rimase senza fiato, quando gli si conficcò nel braccio con cui impugnava la spada. «Niko!» Il figlio di Ade vacillò. La freccia si dissolse, senza lasciare tracce di sangue né ferite visibili. Il volto di Nico, però, era atteso dalla rabbia e dal dolore. «Smettila di giocare!» gridò. «Mostrati!» «Si paga un prezzo molto alto per guardare il vero volto dell'amore», dichiarò Cupido. Un'altra colonna crollò. «Mia moglie Psyche ha imparato la lezione a proprie spese. Venne portata qui secoli fa, quando vi sorgeva il mio palazzo. Ci incontravamo solo al buio. Era stata avvisata di non guardarmi mai, ma lei non riusciva a sopportare il mistero. Temeva che fossi un mostro. Una notte, accese una candela per guardare il mio viso mentre dormivo. Eri così brutto?» Jason pensò di avere localizzato la voce di Cupido. Si trovava sul margine dell'anfiteatro, a una ventina di metri di distanza, ma voleva esserne certo. Il dio rise. «Ero troppo bello, temo. Un mortale non può guardare il vero volto di un dio senza subirne le conseguenze. Mia madre, Afrodite, maledisse Psyche per la sua sfiducia. La mia povera amante fu tormentata, costretta all'esilio e sottoposta a compiti tremendi per provare il proprio valore. Dovette perfino compiere un'impresa negli inferi per dimostrare la dedizione nei miei confronti. Si riguadagnò il posto al mio fianco, ma soffrì tantissimo!» «Adesso ti becco!» pensò Jason, lanciando la spada in cielo. Un tuono scosse la vallata. Un fulmine scavò un cratere nel punto esatto in cui la voce aveva parlato. Silenzio. «Cavoli, ha funzionato!» stava pensando Jason, quando una forza invisibile lo gettò a terra, scaraventando la spada dall'altra parte della strada. «Non male!» commentò Cupido, la voce già lontana. «All'amore non si può inchiodare così facilmente!» Un muro crollò poco distante e Jason riuscì a malapena arrotolare via. «Smettila!» gridò Nico. «È me che vuoi! Lascialo in pace!» A Jason ronzavano le orecchie. Era stordito dalle botte e aveva in bocca un saporaccio di polvere di roccia. Non capiva perché Nico pensasse di essere l'obiettivo principale. Ma Cupido sembrava d'accordo. «Povero Nico di Angelo!» Nella voce del Dio c'era una vena di disappunto. «Pensi di sapere quello che vuoi e addirittura di sapere quello che voglio io? Affigurati! La mia amata psiche ha rischiato tutto in nome dell'amore! Era l'unico modo per espiare la sua mancanza di fede! E tu? Tu cosa hai rischiato nel mio nome?» «Sono andato e tornato vivo dal tartaro!» ringhò Nico. «Non mi fai paura!» «Ti faccio molta, moltissima paura! Affrontami! Sii sincero!» Jason si tirò su. Il terreno tutto intorno a Nico si spostò. L'erba passì. Le pietre si spaccarono come se qualcosa si stesse muovendo sottoterra, tentando di spuntare in superficie. «Dacci lo scettro di Dio Cleziano!» disse il figlio di Ade. «Non abbiamo tempo da perdere con i tuoi giochetti!» «Giochetti?» Cupido colpì, scaraventando Nico contro un piedistallo di granito. «L'amore non è un gioco! Non è roba per mammolette! È un lavoro duro, una ricerca che non finisce mai! Pretende tutto da te! Soprattutto la verità! Solo allora ti ricompensa!» Jason recuperò la spada. Se questo tizio invisibile era l'amore, Jason cominciava a pensare che l'amore fosse sopravvalutato. Preferiva la versione di Piper, un sentimento premuroso, gentile, bellissimo. Riusciva a capire a Frodite. Cupido, invece, gli sembrava un prepotente, un aguzzino. «Nico, cosa vuole da te questo tizio?» «Diglielo, Nico di Angelo!» intervenne il Dio. «Digli che sei un codardo e hai paura di te stesso e dei tuoi sentimenti! Diggli il vero motivo per cui sei fuggito dal campo mezzosangue e perché stai sempre da solo!» Nico mise un grido gutturale. Il terreno ai suoi piedi si spaccò e degli scheletri spuntarono in superficie. Erano romani senza mani, con i teschi schiacciati, le costole rotte, le mandibole sgangherate. Alcuni indossavano brandelli di toga. Altri avevano pezzi scintillanti di armatura appesi al petto. «Ti nasconderai fra i morti come fai sempre!» lo schernì Cupido. Ondate di oscurità sgorgarono dal figlio di Ade. Quando colpirono Jason, per poco non gli fecero perdere conoscenza, soprafatto dall'odio, dalla paura, dalla vergogna. Gli balenarono immagini nella mente. Vide Nico e la sorella su una scogliere innevata nel Maine, Percy Jackson che li proteggeva da una manticora. La spada di Percy scintillava nell'oscurità. Era stato il primo semidio che Nico avesse mai visto in azione. Più tardi, al campo mezzosangue, Percy aveva preso Nico per un braccio, promettendogli di proteggere Bianca. Lui gli aveva creduto. Lo aveva guardato negli occhi verdi come il mare, pensando «come potrebbe fallire? È un vero eroe!» Era il gioco preferito di Nico, mitomagia, diventato realtà. Jason vide il momento in cui Percy era tornato e aveva detto a Nico che Bianca era morta. Nico aveva urlato e gli aveva dato del bugiardo, si era sentito tradito. Eppure, quando i guerrieri scheletro avevano attaccato, non aveva permesso che facessero del male a Percy. Nico li aveva fatti inghiottire dal terreno e poi era fuggito via, terrorizzato dai propri poteri e dalle emozioni. Jason vide una decina di altre scene come quella dal punto di vista di Nico e lo lasciarono allibito, incapace di muoversi e parlare. Nel frattempo, gli scheletri romani avanzavano e combattevano contro il dio invisibile. Cupido lottò, scaraventandoli via, rompendo costole teschi, ma gli scheletri continuavano ad arrivare e gli immobilizzarono le braccia. «Interessante!» esclamò Cupido. «Ai o non hai la forza, quindi?» «Ho lasciato il campo mezzo sangue per amore!» disse Nico. «Annabeth, continui a nasconderti!» lo interruppe Cupido, facendo a pezzi un altro scheletro. «Non hai la forza!» «Nico, va tutto bene!» riuscì a dire Jason. «Ho capito!» Il figlio di Ade gli lanciò un'occhiata, con il volto pervaso dalla sofferenza e dalla tristezza. «No, che non hai capito! È impossibile!» «E così fuggi ancora!» lo rimproverò Cupido. «Dai tuoi amici!» «Da te stesso!» «Io non ho amici!» gridò Nico. «Ho lasciato il campo mezzo sangue perché lì non mi sento a casa! Non mi sentirò mai a casa da nessuna parte!» Gli scheletri avevano immobilizzato Cupido, ma il dio invisibile rideva con tale crudeltà che Jason fu tentato di evocare un altro fulmine. Tuttavia dubitava di avere l'energia per farlo. «Lascialo in pace, Cupido!» disse. «Questi non sono!» Gli mancò la voce. Voleva dire che non erano affari suoi, ma si rese conto che erano proprio affari suoi, affari di cuore. Continuava a ronzargli nell'orecchia una frase che Favonio aveva detto. «La cosa ti sciocca?» La storia di Psiche finalmente aveva un senso per lui. Capì perché una ragazza mortale fosse così spaventata, perché avesse osato infrangere le regole per guardare in faccia il dio dell'amore. Aveva paura che fosse un mostro. Psiche aveva ragione. Cupido era un mostro. L'amore è il mostro più crudele di tutti. La voce di Nico era come un vetro rotto. «Io... io non ero innamorato di Anna, Beth! Eri geloso di lei! È per questo che non volevi starle accanto!» disse Jason. «E soprattutto... è per questo che non volevi stare accanto a... lui!» Di colpo, tutto il conflitto e il rifiuto che attanagliavano Nico scomparvero. Le tenebre si ritirarono. Gli scheletri romani crollarono in mucchietti d'ossa e si polverizzarono. «Odiavo me stesso!» riprese Nico. «E odiavo Percy Jackson!» Finalmente Cupido si palesò. Era un giovane magro e muscoloso, con le ali candide come la neve, i capelli lisci e neri, una semplice giacca bianca e un paio di jeans. L'arco e la tra sulle spalle non erano giocattoli, erano armi da guerra. Aveva gli occhi rossi come il sangue, quasi che ogni pena d'amore fosse stata pressata e distillata in un'unica miscela velenosa. Il volto era bello, ma anche duro, difficile da guardare, come una luce molto intensa. Osservò Nico con soddisfazione, come se avesse individuato il punto esatto in cui scoccare la prossima freccia e ucciderlo con precisione. «Gli ero preso una cotta per Percy!» sputò fuori Nico. «È questa la verità! È questo il grande segreto!» Lanciò un'occhiata torva a Cupido. «Contento adesso?» Per la prima volta, lo sguardo di Cupido sembrò compassionevole. «Oh, io non direi che l'amore rende sempre felici e contenti!» Aveva un tono di voce più sottile, molto più umano di prima. «A volte rende incredibilmente tristi! Ma almeno adesso l'hai affrontato!» «Questo è l'unico modo per conquistarmi!» Cupido si dissolse nel vento. Per terra, nel punto in cui poco prima c'era il dio, giaceva un bastone d'avorio lungo un metro, sormontato da una sfera scura di marmo levigato, grande quasi come una palla da baseball, annidata sul dorso di tre aquile d'oro. «Lo scettro di Diocleziano!» Nico si inginocchiò e lo raccolse. Guardò Jason, come se si aspettasse di essere attaccato. «Se gli altri lo scoprissero, se gli altri lo scoprissero, avresti molte più persone dalla tua parte, pronti a scatenare la furia degli dèi contro chiunque ti crei problemi!» disse Jason. Nico aggrottò la fronte. «Ma aspetta a te decidere!» aggiunse Jason, che continuava a percepire rabbia e risentimento nell'animo di Nico. «Sei tu che devi scegliere se parlarne o meno!» «Io posso solo dirti non provo più gli stessi sentimenti!» mormorò il figlio di Ade. «Cioè, ho perso le speranze con Percy!» «Ero piccolo e suggestionabile, io... io non...» Gli si incrinò la voce e Jason intuì che stavano per venirgli le lacrime agli occhi. Che Nico avesse perso le speranze o meno, Jason non riusciva neppure a immaginare cosa avesse passato in tutti quegli anni, custodendo un segreto impensabile da rivelare negli anni quaranta, negando se stesso, sentendosi completamente solo, ancora più isolato degli altri semidei. «Nico, ho visto compiere tanti gesti coraggiosi», disse con gentilezza il figlio di Giove. «Ma quello che hai appena fatto è stato probabilmente il più coraggioso di tutti!» Nico sollevò gli occhi, incerto. «Dovremmo tornare alla nave!» «Sì, posso trasportarti in volo... no! Stavolta viaggeremo nelle ombre», dichiarò il figlio di Ade. «Credo di non voler più sentire parlare di venti. Almeno per un po'.»